Ottica Franchini invita tutti alla Festa Fuori Porta, in via Marco Peregno ad Arezzo sabato 21 maggio a partire dalle 17. Negozi aperti, bancarelle, gonfiabili, musica e buon cibo e così via Marco Peregno prende vita. Ci sarà anche un maxischermo per seguire la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Non mancate sabato 21 maggio a partire dalle 17 in via Marco Peregno ad Arezzo alla Festa Fuori Porta. No mancate sabato 21 maggio a partire 17 in via Marco Peregno ad Arezzo alla Festa Fuori Porta.